Inferno di Dante Canto primo, lettura, analisi e commento Il nostro viaggio comincia il venerdì santo del 1300, siamo al tramonto e Dante si è perso in una selva. In questo canto Dante incontrerà la sua guida per l'inferno e per il purgatorio, cioè Virgilio. Nel canto possiamo individuare queste macro sequenze che ci accompagneranno lungo il nostro convento. Dante si smarrisce in una selva oscura, Dante si ritrova a metà del cammino della vita in una selva oscura. L'orrore di essa, selvaggia, irta, intricata di pruni, rinnova il timore al solo pensarvi. Né il poeta si è accorto di esservi entrato, perché il suo animo era assonnato e intorpidito. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ai quanto a dir qual'era e cosa dura esta selva selvaggia e aspre e forte che nel pensier rinnova la paura. Tante amara che poco e più morte, ma per trattar del ben che vi ritrovai dirò delle altre cose che i vo scorte. Io non so ben dir come i ventrai, tante era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Cominciamo ad analizzare il primo celeberrimo verso nel mezzo del cammin di nostra vita. Dante lo chiarisce già nel convivio, ha dalla sua parte anche annotazioni bibliche, anche di Isaia, per cui la vita di un essere umano era indicata nell'arco dei 70 anni. Dante, che nasce nel 1265, si trova nel 1300 ad avere appunto 35 anni, cioè si trova appunto nel mezzo del cammino, ma di nostra vita. È importante questo aggettivo perché il cammino che sta facendo Dante non è soltanto il cammino di Dante, ma il nostro cammino, di tutti quanti noi. Per cui questo viaggio, e lo vedremo tra pochissimo, non è soltanto il viaggio di un cristiano che si è perso, la cui quel smarrimento è legato a un episodio biografico, ma può essere l'episodio biografico di chiunque di noi, ma anche potrebbe essere non solo un episodio biografico. E qui, questa tutta la grandezza della commedia, cioè dall'elemento specifico, dall'episodio biografico, si può andare sull'universale. Questo è il cammino di tutta l'umanità, un'umanità che veramente ha smarrito la vita e si è persa in una selva oscura. Infatti andiamo proprio a analizzare questo secondo concetto, la selva oscura. In effetti, dai testi, da altri testi danteschi, come il convivio, sappiamo che si tratta appunto di una selva erronea di questa vita, cioè indica, soprattutto in riferimento agli adolescenti, una vita peccaminosa, dominata dai sensi. E questa è, diciamo, questa è un'interpretazione che è legata a un aspetto autobiografico che può appunto capitare a tutti quanti noi. Ma la selva indica anche qualcosa di più universale. Ecco il doppio piano di lettura. Disordine, decadenza, di che cosa? Disordine, decadenza della Chiesa. La profonda corruzione che già da secoli attraversava la Chiesa. E dall'altra parte una sorta di vera e propria assenza, vacanza dell'impero. C'era l'imperatore, ma l'imperatore non ha un potere effettivo nella dimostrazione della discesa di Enrico VII in Italia, che non ha assolutamente cambiato le sorti dell'Italia stessa. Per cui Dante ritiene che non sia soltanto lui Dante Ligieri o chiunque di noi a essersi smarrito nella selva oscura in un momento di difficoltà della nostra esistenza. Ma sono i due grandi poteri, appunto, il papato e l'impero, che probabilmente si sono persi pure loro. E' una selva che ci fa perdere la dritta via, quella appunto che ci porta al bene. E ora che Dante ha finito il suo viaggio e lo sta scrivendo, rivede quei momenti. E la paura che aveva provato il Dante personaggio, lo prova anche il Dante autore, quando appunto rivede questi eventi che è passato. Hai quanto a dir qual era e cosa dura è sta selva selvaggia, paranomasia e aspre e forte, che rinnova la paura soltanto a pensarci. Tanto è amara, amara, dobbiamo fare riferimento alla selva, non tanto alla paura, che la morte deve essere soltanto un pochettino più amara, più drammatica. Ma per affrontare, per parlare del bene che io vi ho trovato, dirò le altre cose che vi ho visto. Importante l'interpretazione di questo ben, perché se noi, come vogliono la stragrande maggioranza dei critici, lo interpretiamo come Virgilio, perché Dante tra poco incontrerà Virgilio proprio nella selva oscura, e allora le altre cose devono essere interpretate come le tre fiere che Dante incontrerà tra pochissimo. Io non so ben ridir com'i ventrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ecco, cadere nel peccato è un momento di ottembramento della ragione, e talvolta noi ci accorgiamo di trovarci nel peccato un istante dopo, se va bene, di essere nel peccato stesso. Quel momento di passaggio, cioè dalla dritta via alla selva oscura, questo passaggio avviene talvolta in maniera inconsapevole, perché la mente appunto era piena di sonno, cioè il torpore dell'anima, probabilmente attirata dal peccato, dalle lusinghe appunto del peccato, e quindi l'anima si perde e si ritrova nel bel mezzo di questa selva oscura. Il colle illuminato dal sole Il poeta, giunto al limite della selva, scorge un colle, la cui cima è illuminata dal sole, Come il naufrago che, uscito dal pericolo, si volge al mare da cui è riuscito a salvarsi, Dante volge lo sguardo verso la selva rimasta alle sue spalle, e dopo un breve riposo per rinfrancare le forze, riprende il cammino verso l'erta del colle. Ma poi che io fui al piedo un colle giunto, laddove terminava quella valle che mavea di paura il corco un punto, guardai in alto e vivi le sue spalle, vestite già dei raggi del pianeta, che mena dritto altrui per ogni eccalle. Allor fu la paura un poco queta che nel lago del corme era durata la notte che io passai con tanta pieta, e come quei che con l'ena affannata, uscito fuor del pelago alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata, così l'animo mio, che ancora fuggiva, si volse a retro a riminarlo passo che non lasciò giammai persona viva. Poi che hai posato un poco il corpo lasso, ripresi via per la piaggia diserta, sicché il pie fermo sempre era il più basso. Ma poi che io arrivai al piede, quindi a parte più bassa di un colle, laddove terminava quella valle, cioè la selva oscura, che mi aveva riempito il cuore di paura, guardai verso l'alto e vidi le sue spalle, le spalle del colle, vestite già dei raggi del pianeta che conduce e guida ognuno per la sua strada. Allora, affrontiamo il discorso del colle. Evidentemente vediamo le metafore del piede, le spalle vestito, quindi le personificazioni. Il colle è la felicità, la felicità terrena. Il colle è vestito, quindi illuminato dai raggi del sole, quindi illuminato dai raggi della grazia. Il sole viene indicato ancora come un pianeta, perché nel sistema tomistico, tolemaico, il sole era uno dei tanti pianeti che girava attorno alla Terra. e il sole è colui che conduce drittamente, conduce tutti per la propria strada. In effetti, quando si viaggia, è meglio probabilmente mettersi in viaggio con il sole, perché il sole ci guida. Fuori di metafora, naturalmente, il sole rappresenta Dio e quindi il nostro viaggio è un viaggio che deve essere guidato da Dio. Allor fu la paura un poco queta che nel lago del Cormera durata la notte che io passai con tanta pieta. Vedendo il colle, vedendo appunto la luce del sole, Dante si rinfranca un po', quindi ripassa un pochettino della paura che aveva avuto durante, nella parte più profonda del cuore, quindi nel lago del cuore, durante quella notte che è passato con tanta angoscia. Qui evidentemente il termine notte richiama il termine di selvo scura, quindi anche qui dobbiamo intendere la notte come peccato. E abbiamo la prima, grandissima similitudine della commedia. È come quei che con lei inaffannata, uscito fuori dal mare, è arrivato alla riva, si gira dall'altra parte, vede dietro di sé che l'acqua che aveva appena attraversato, quindi l'acqua pericolosa, si tratta appunto del naufrago che è scampato a un naufragio, allo stesso modo l'animo del poeta, che ancora fuggiva, quindi cercava di allontanarsi quanto più possibile da selvo scura, si gira dietro per guardare lo passo che non lasciò giammai persona viva. Per guardare quel passo, il passo qua dobbiamo intendere probabilmente la selva, e quindi il che, a che dobbiamo dare un valore di soggetto, selva che non lasciò giammai persona viva, cioè la selva che è stata attraversata solo da persone che hanno perso più che la vita, hanno perso naturalmente la speranza di salvezza in Dio, cioè le persone peccatrici. Poiché io ho posato un poco il corpo stanco, ho ripreso attraversando luoghi deserti in maniera tale che il pie fermo, quello su cui potevo contare di più, era sempre quello che stava più in basso. Dante comincia a salire il colle. Le tre fiere, Dante ritorna nella selva. Proprio mentre il poeta inizia la salita, gli si para dinanzi una lonza, leggere e veloce, che gli sbarra il cammino. Il momento favorevole dell'ora e della stagione sembra ridare momentaneamente al poeta la speranza di raggiungere la sommità del colle. Speranza che svanisce del tutto all'apparizione di un leone che avanza minaccioso ruggendo e di una lupa magra e affamata. Questa, muovendo contro Dante, lo ricaccia a poco a poco nella selva oscura. Ed ecco, quasi al cominciare dell'erta, una lonza leggera e presta molto, che di pelma colato era coverta. E non mi si partia dinanzi al volto, anzi, impediva tanto il mio cammino, chi fui, per tornare più volte volto. Tempe era dal principio del mattino, e il sol montava in su con quelle stelle che erano con lui quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle. Sicca ben sperare, m'era cagione, di quella fiera la gaetta pelle, l'ora del tempo e la dolce stagione. Ma non si che paura non mi desse la vista che m'apparve d'un leone. Questi, parea che contra me venisse, con la testa alta e con rabbiosa fame, sicché parea che l'aere ne tremasse, ed una lupa che di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza, e molte genti fe già viver grame, questa mi porse tanto di gravezza, con la paura che uscìa di sua vista, che io perdei la speranza dell'altezza. E qual è quei che volentieri acquista, e giugne il tempo che perderlo face, che in tutti i suoi pensieri piange e sattrista, tal mi fece la bestia sanza pace, che venendo mi incontro, a poco a poco, mi ripigneva laddove il sol tace. Allora, andiamo a conoscere gli animali, e, con l'aiuto anche dei bestieri medievali, cerchiamo di dare una spiegazione tra le tante che i critici hanno proposto, antichi e moderni. cominciamo dalla lonza, ed ecco, quasi all'inizio della salita, una lonza, leggera e presta molto. Ci dicono i bestieri medievali che si tratta di una lince, di una lince che è, diciamo, l'allegoria, il simbolo della lussuria. E li vediamo, così tratti, perché questa lonza è leggera, è molto veloce, ed era coperta da una pelle a macchie, maculata. E non mi si partia dinanzi al volto, si è messa davanti a Dante, non si allontanava, anzi, impediva tanto il suo cammino che Dante più volte fu sul punto di tornare indietro, più volte di girarsi volto per tornare indietro. Ma tempera dal principio del mattino, ma era la mattina, quindi il luogo ideale, il momento ideale per poter cominciare il viaggio. E soprattutto il sole montava, vedete, si trovava nella costellazione dell'Ariete, interessante l'uso anche del verbo montare, montone, Ariete. Si trovava in quelle stelle che erano con lui, che si trovavano quindi con il sole, quando Dio, l'amor divino, mosse per prima tutte le cose belle. Cioè, il Medioevo si credeva che Dio avesse creato il mondo in primavera, e quindi durante l'equinozio di primavera. E qui ci troviamo appunto in occasione dell'equinozio di primavera, e questo equinozio da una parte le prime ore del giorno dall'altra fanno ben sperare Dante. Sicca ben sperare in mera cagione, tanto che avevo motivo di sperare bene, cioè di avere una buona speranza di riuscire di questo viaggio, e quindi di scappare, di fuggire, di evitare quell'animale dalla pelle a chiazze, sia l'ora del tempo che la dolce stagione. Ecco, quindi il momento della giornata e la stagione primaverile, che sono i soggetti naturalmente, mi facevano ben sperare della possibilità di evitare questa lonsa. ma non sì che paura non mi desse la vista che mi apparve di un leone. Arriva la seconda fiera, il leone. Il leone appare improvvisamente, Dante non se ne accorge. Questi, il leone, parea che contro me venisse, sembrava che stesse venendo proprio contro di me, con la testa alta e con la fame rabbiosa, sicché parea che l'aere ne tremasse. Il leone è simbolo della superbia e lo vediamo anche nel suo atteggiamento, la testa alta, la fame rabbiosa e addirittura il fatto che tutta l'aria, tutto il luogo tremasse alla vista di questo leone. Ed ecco il terzo animale, la terza fiera che fa perdere la speranza dell'altezza come dice Dante stesso, cioè la possibilità di raggiungere il colle per questa dritta via. Ed una lupa che di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza e molte genti fe già viver grame, questa mi porse tanto di gravezza con la paura che usciva appunto dalla sua vista che Dante perde la speranza dell'altezza. Andiamo a vedere un pochettino di che cosa si parla. Nel primo caso la lonza era appunto la lussura e nel secondo il leone che era la superbia e nel terzo la lupa è simbolo, allegoria della cupidigia, dell'avarizia. E la vediamo questa cupidigia, questa avarizia perché sembrava carca nella sua magrezza, cioè sembrava piena pur essendo magra, quindi proprio di chi ha ma vuole ancora di più o non vuole spendere insomma nel doppio accezione cupidigia e avarizia e addirittura fa vivere in maniera insomma difficile con gravezza, con appunto peso moltissimi popoli. Che cosa intendiamo per cupidigia e avarizia? Beh evidentemente la cosa più semplice è il desiderio di denaro ma qui dobbiamo ipotizzare anche un desiderio di onori e più in generale un desiderio di beni terreni. Questi tre desideri sono tutti rappresentati dalla lupa, il terzo animale che si pone davanti a Dante che ne impedisce appunto il cammino. E qual è quei che volentieri acquista e giugne il tempo che perderlo face che in tutti i suoi pensieri piange e sa trista secondo una grandissima similitudine della commedia cioè quella dell'avaro avarizia avaro perfettamente inserita in questo contesto e come quella persona che acquista volentieri contenta naturalmente di guadagnare ma arriva il momento in cui perde tutto ed è triste quindi piange sia triste ed è triste allo stesso modo tale mi fece la bestia senza pace cioè la condizione in cui la lupa gettò Dante è la stessa del l'avaro che ha perso tutto la bestia senza pace infatti il desiderio di denaro il desiderio di onore il desiderio di beniterreni come abbiamo già visto precedentemente possono essere interpretati non soltanto alla luce di episodi biografici dell'autore o di episodi in cui possiamo trovare anche la nostra personale biografia ma dobbiamo ovviamente passare dal particolare all'universale e considerare appunto la cupidigia l'avarizia come veramente uno dei più grandi mali del mondo di quel mondo ma forse anche del nostro e questi questi peccati portano a una totale mancanza di pace nel mondo ecco perché la bestia è senza pace questa bestia che andando incontro a Dante a poco a poco lo riporta nella selva dove il sole metafora zittisce sta in silenzio cioè manca la selva oscura apparizione di Virgilio mentre retrocede verso la selva Dante vede una figura umana e a quella si rivolge chiedendo aiuto anche se non sa distinguere se si tratta di ombra o di uomo vivo l'ombra risponde di essere già stato un uomo un tempo e rivelatosi per Virgilio invita il poeta a salire il dilettoso monte principio di ogni completa felicità all'udir ciò Dante risponde con umiltà esaltando Virgilio come onore e lume degli altri poeti come autore maestro suo e in nome della sua fedeltà di discepolo lo prega di aiutarlo e di liberarlo dal pericolo della lupa il pianto accompagna la disperata richiesta e Virgilio in rincuorandolo esorta Dante ad incamminarsi per una via diversa perché la lupa è così pericolosa da impedire non solo il cammino ma addirittura da uccidere anche chi si trova sulla sua strada mentre ch'io rovinava in basso loco dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio parea fioco quando vidi costui nel gran diserto miserere di me gridai a lui qualche tu si o d'ombra o d'omo certo rispose non omo omo già fui ed i parenti miei furon lombardi mantuani per patria ambedui nacqui sub iulio ancor che fosse tardi e vissi a Roma sotto il buono augusto nel tempo degli dei falsi e bugiardi poeta fui e cantai di quel giusto figliol d'anchise che venne di troia poiché il superbo il lion fu combusto ma tu perché ritorni a tanta noia perché non sale il dilettoso monte che principio e cagion di tutta gioia orsi tu quel virgilio e quella fonte che spandi di parlarsi il largo fiume risposi io lui con vergognosa fronte o degli altri poeti onore e lume vaglami il lungo studio e il grande amore che mi ha fatto a cercarlo tuo volume tu sei lo mio maestro il mio autore tu sei solo colui da cui tolsi lo bello stilo che mi ha fatto onore vedi la bestia per cui io mi volsi aiutami da lei famoso saggio che ella mi fa tremarle vene e i polsi a te convien tenere altro viaggio rispose poiché lagrimar mi vide se vuoi campar desto loco selvaggio che questa bestia per la qual tu gride non lascia altrui passare per la sua via ma tanto lo impedisce che lo uccide e a natura si malvagia e ria che mai non empie la bramosa voglia e dopo il pasto ha più fame che pria mentre dante ritornava costretto dalle tre fiere ma in particolare l'ultima nella selva ecco che si presenta davanti una persona che per lungo silenzio è sembrata fioca o gli è apparsa sempre più fioca sbeadita di chi si tratta due sono le interpretazioni che vanno per la maggiore se noi intendiamo diciamo che quel chi cioè quella persona che appare a dante virgilio che rappresenta in questo caso simboleggia la ragione dobbiamo dire che la ragione si era spenta dentro dante perché aveva perso la dritta via si era perso nella selva oscura e quindi di fatto chi aveva taciuto per tanto tempo quindi il chi per lungo silenzio pare a fioco lo dobbiamo intendere nella perdita della ragione che aveva spinto che aveva portato dante a perdersi nella selva oscura invece questo verso può essere interpretato anche in un altro modo cioè non tanto attribuendo a virgilio la la qualità della ragione e quindi di fatto considerandolo solo ragione che si era spenta nell'animo di dante ma proprio come persona chi quindi a causa dell'oscurità del luogo perché è la selva appunto oscura non veniva riconosciuta da dante o come persona viva o come persona già morta e lo dice appunto nel verso qualche tu si o d'ombra o d'uomo certo ecco quindi dante intravede una figura che ancora non sa essere quella di virgilio e chiede a lui quando vidi costui nel gran diserto cioè in questo luogo così deserto mi rivolsi a lui alzando la voce e dissi abbi pietà di me miserere di me chiunque tu sia o ombra eccolo qua omo certo quindi o sei un morto oppure sei ancora una persona viva rispose mi non omo omo già fui e lì parenti miei furono lombardi mantovani per patria ambedue il famoso anacronismo splendido di usato da dante virgilio vive nel primo secolo avanti cristo e quindi di fatto non può parlare del luogo di nascita mantova che oggi si trova in lombardia come di una città lombarda non può parlare dei suoi parenti cioè i suoi genitori alla latina come ovviamente lombardi perché la lombardia la longobardia prende questo nome soltanto molto tempo dopo quando i longobardi appunto occupano l'italia quindi di fatto dante attribuisce a virgilio delle parole che lui non avrebbe potuto dire ma l'anacronismo è bellissimo e anzi ringraziamo dante di questo splendido anacronismo non uomo sono stato uomo quindi virgilio dice che è morto i miei genitori furono entrambi longobardi o comunque del nord italia italia settentrionale entrambi mantovani come luogo di nascita interessante questo nacque sub giulio sono nato sotto giulio giulio cesare innanzitutto quando virgilio è nato il 70 avanti cristo giulio cesare era ancora un cittadino privato non è ancora solcato è entrato ancora entrato in politica ma quello che a noi interessa è che quel sotto giulio è indicato quasi come se fosse poteva dire sono nato sotto augusto sono nato sotto tiberio cioè giulio cesare qua viene identificato quasi come imperatore e in effetti questo non ci sappiamo che questo non è così ma nell'ottica politica di dante dalle opere politiche sappiamo che dante considerava giulio cesare il primo di questi imperatori romani quindi sono nato sotto giulio ancor che fosse tardi piena epoca diciamo di giulio cesare prima che fosse appunto troppo tardi per vedere questo personaggio e sono vissuto a roma sotto il buono attenzione valente abile augusto non ha nessuna connotazione morale questo buono si tratta sempre di augusto che quindi è un pagano nel tempo dei falsi e bugiardi anche in questo caso l'interpretazione può essere un po' scivolosa nel senso che chiaramente Virgilio è un pagano e quindi non può parlare delle proprie divinità delle divinità in cui ha creduto come dei falsi e bugiardi e Virgilio ormai morto ormai collocato nel limbo che probabilmente può riferirsi alla vita precedente come a una vita caratterizzata da dei falsi e bugiardi ma è il Dante cristiano che fa dire appunto queste cose a un Virgilio che appunto cristiano non era poeta fui e cantai di quel giusto figliol d'Anchise che venne di Troia poiché il superbo io fu combusto quindi qui Virgilio si identifica come poeta sono stato poeta e ho cantato di quel giusto figliol d'Anchise cioè di Enea identificato Pius Pio nei confronti della patria nei confronti dei genitori nei confronti degli dei Enea che venne da Troia dopo che bruciò la superba rocca di Troia in riferimento naturalmente al termine greco e cosa interessante in riferimento anche è un termine combusto che non è solo usato nei testi classici ma anzi molte volte usato nei sacrifici nei testi biblici e Virgilio senti bisogno di domandare a Dante cosa ci fai qui ma tu perché ritorni a una tale angoscia perché non sali il colle che ora chiama monte del diletto quindi monte felice che è principio e ragione di tutta la gioia e allora Dante risponde con altre quattro terzine a Virgilio prima sorprendendosi di trovare questo personaggio or sei tu sei tu ma veramente sei tu quel Virgilio quella fonte che fai un grande fiume di parole cioè che hai scritto opere così grandi rispose ho risposto io con un atteggiamento dice Dante vergognoso quindi con un atteggiamento umile nei suoi confronti o degli altri poeti onore e lume cominciano insomma i termini di esaltazione di lode a quale Dante si rivolge a Virgilio chiama onore lume luce per tutti gli altri poeti immagine che ritorna anche nel purgatorio vagliami il lungo studio mi mi è servito mi servirà il lungo lavoro che ho fatto leggendo e l'amore il grande amore che mi ha spinto ad avvicinarmi al tuo volume a cosa si riferisce possiamo ipotizzare naturalmente che volume possa intendersi le neide semplicemente oppure forse più in generale le neide e bucoliche perché non erano così note nel medioevo le georgiche la terza opera comunque più in generale possiamo dire l'opera di Virgilio tu sei il mio maestro ecco cominciamo a capire che cosa si intende per maestro è il maestro di retorica quindi Virgilio identificato con onore lume eccetera ma ora anche maestro di stile maestro di retorica il mio autore actor cioè colui che conosce la verità e che la diffonde in questo caso naturalmente come modello da imitare un modello autorevole tu sei solo colui da cui ho tolsi lo bello stile che mi ha fatto onore ecco tu sei quella persona da cui ho tratto dopo il lungo studio sulla tua opera dopo il grande amore che mi ha fatto vicino alla tua opera ho ricavato lo stile quasi sicuramente lo stile alto come dice anche in altre opere Dante cioè lo stile tragico quello elevato lo bello stile si fa riferimento allo stile elevato e poi la richiesta di aiuto vedi la bestia vedi appunto la lupa per cui io mi volsi per cui appunto io sono stato costretto a tornare indietro aiutami da lei quindi vieni mi incontro famoso saggio saggio in questo caso lo dobbiamo intendere come poeta il poeta era una una caratteristica che si attribuiva ai poeti cioè la saggezza perché il poeta è anche colui che cerca ricerca e diventa anche maestro di sapienza che è la mi fa tremarle vene i polsi una perifrasi per indicare appunto la paura che questo animale da a Dante Virgilio ha capito allora qual è la situazione ha capito che Dante deve fare un altro viaggio non può incamminarsi per il viaggio della diritta via ormai si trova nella selva oscura quindi deve affrontare l'aldilà in tutti i suoi tre regni ma questo lo vedremo tra poco a te conviene tenere altro viaggio ecco un viaggio diverso da quello che tu pensavi molto semplice bastava scavare il colle rispose poiché il lagrimare mi vide dopo che mi ha visto piangere se vuoi campare da sto luogo selvaggio se vuoi salvarti quindi uscire sano e salvo da questo luogo selvaggio che perché questa bestia la rupa per la quale tu grida contro cui appunto tu rivolgi queste tue richieste di aiuto e quindi per cui tu hai paura non lascia altrui passare per la sua via non non si sposterebbe mai quindi ma tanto impedisce il cammino degli altri che addirittura l'uccide cioè c'è un pericolo di vera e propria morte non morte nel peccato di Dante ma proprio di morte fisica e quindi e ha natura si malvagge e ria ha una natura così malvagia e cattiva che mai non empie la sua bramosa voglia che non riesce mai essere soddisfatta non si appaga mai nonostante le vittime che fa e addirittura dopo aver mangiato dopo il pasto ha più fame che prima la profezia del veltro proseguendo nel suo discorso Virgilio dichiara che l'opera nefasta della lupa continuerà ancora sulla terra finché non giungerà un veltro cioè un salvatore a liberare il mondo della sua presenza con linguaggio oscuro come e proprio delle profezie il veltro è designato per mezzo per mezzo di alcune caratteristiche non si ciberà né di terra né di peltro ma sarà nutrito solo di sapienza di amore e di virtù e la sua nascita avverrà tra feltro e feltro sarà salvezza dell'Italia per la quale sono morti i primi eroi cantati da Virgilio e caccerà finalmente nell'inferno la lupa che da quello dall'inferno era uscita molti sono gli animali a cui si ammoglia e più saranno ancora infinché il veltro verrà che la farà morire con doglia questi non ciberà terra né peltro ma sapienza amore e virtute e sua nazione sarà tra feltro e feltro di quella umile Italia fia salute per cui morì la vergine cammilla e uriano e turno e niso di ferute questi la caccerà per ogni villa finché l'avrà rimessa nello inferno la onde invidia prima di partilla allora il veltro chi è il veltro il veltro è un cane da caccia per cui di fatto insomma è nella interpretazione che noi possiamo dire abbastanza letterale il veltro è quel cane da caccia che inseguirà la lupa e la caccerà ma è evidente che questa affermazione in un contesto dell'inferno cioè dove l'interpretazione del testo non è mai un'interpretazione solo letterale e dove appunto alla presenza di questo veltro alla comparsa di questo veltro seguono versi profetici oscuri dal significato non del tutto chiaro è abbastanza scontato che dietro questo veltro non possa celarsi soltanto un semplice cane da caccia e sono avanzate tante ipotesi tenendo in considerazione che un po' tutte le ipotesi si sono diciamo hanno dei punti di forza e comunque qualche debolezza noi ovviamente cercheremo di riprodurre in maniera molto molto semplice e quindi con poche indicazioni alcuni punti che sembrano fermi per lo studio dei grandi studiosi e interpreti di Dante e per la lunga tradizione di interpretazione eseggetica del testo della commedia e quindi appunto cominceremo a lavorare sul discorso del veltro molti sono gli animali ma è chiaramente anche l'uomo che è di per sé insomma un animale a cui si ammoglia quindi a cui si unisce e lo saranno ancora di più fino a quando un veltro evidentemente un cane da caccia ma un salvatore arriverà e la farà morire con doia e quindi la farà morire con con dolore e vediamo un pochettino allora questo veltro è evidente abbiamo detto che si tratta almeno nel senso letterario di un cane da caccia e su questo insomma non lo sta il problema è come interpretarlo si è pensato per esempio a un personaggio laico o un personaggio storico dall'altra parte si è pensato a un personaggio ecclesiastico ora sappiamo la posizione di Dante Dante era sicuramente un guelfo ma era un guelfo molto critico nei confronti del 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 pontificato del papa dell'epoca era un guelfo molto critico nei confronti di tanti personaggi del mondo ecclesiastico per cui i tentativi di rintracciare un personaggio ecclesiastico in un momento in cui Dante si trova in esilio e sta cominciando una riflessione estremamente profonda sulla chiesa e sul suo potere che culminerà poi nel De Monarchia in cui appunto addirittura pone sullo stesso piano i due poteri quello imperiale e quello papale possiamo così muovendoci sempre con molta molta attenzione possiamo probabilmente più propendere perché dietro questo cane da caccia ci sia un personaggio laico il problema è cercare di capire quale personaggio qualcuno ha fatto riferimento a Rigo VII ma è vero che è stato un imperatore che è sceso in Italia per combattere cercare di conquistare il potere imperiale in Italia cioè di ottenere ovviamente che i comuni siano più più fedeli più legati alla figura di un imperatore che ormai in Italia pochi riconoscevano come tale ma l'impresa di Rigo VII è finita con la sua morte proprio su un campo di combattimento e di fatto non possiamo parlare di questo personaggio o di un personaggio addirittura che possa portare alla salvezza e comunque morto in combattimento in Italia quindi la sua azione salvifica si sarebbe insomma di fatto interrotta qualcuno pensa a can grande della scala e questo nome tornerà insomma altre volte su questa interpretazione della profezia del Veltro personaggio molto molto importante vicario dell'imperatore per l'Italia personaggio dotato di straordinarie qualità ma è chiaro personaggio a cui Dante dedica tutto il paradiso quindi tutta quanta la commedia però è chiaro che non bastano questi elementi ad avere la certezza che si possa trattare di appunto can grande la scala anche perché poi il concetto è sempre la salvezza cioè quale salvezza può aver portato quale liberazione può aver portato can grande la scala all'intera Italia cantata da Virgilio quindi possiamo fare un'altra ipotesi andando sull'altra terzina questi cioè il Veltro non ci berà terra né Peltro ecco quindi personaggio che quindi non sarà appunto desideroso vediamo prima la copidigia né di terre né di beni terreni né di ricchezze ma si ciberà sempre in maniera metaforica di sapienza amore e virtù a questo punto ovviamente noi possiamo dire beh è chiaro che si tratta di un personaggio ecclesiastico un personaggio ecclesiastico dovrebbe almeno insomma cibarsi non di beni terreni ma di sapienza amore e virtù e ci richiamano insomma anche alla Trinità ma vista la situazione in cui verteva la chiesa in quel momento i dubbi sono più maggiori che le possibilità di inquadrare un personaggio ecclesiastico in quel periodo con queste qualità e torniamo ancora al personaggio laico sappiamo e non soltanto da fonte interna che può essere Dante che Macan Grande della Scala veniva rappresentato anche come un personaggio amante della conoscenza insomma che possedeva dei terreni perché naturalmente era signore di Verona e non solo ma non era schiavo appunto di questi suoi beni e se possiamo fare un ulteriore passo in avanti andiamo nell'interpretazione tra feltro e feltro perché feltro e feltro può fare riferimento sicuramente a una sorta di abiti non particolarmente ricchi e quindi si potrebbe pensare agli abiti che potrebbero essere indossati da degli ecclesiastici dei monaci probabilmente ma con feltro erano anche foderate le urne per lezioni dei magistrati e quindi si può pensare chiaramente a un personaggio anche laico qualcuno ha ipotizzato che dietro questi due termini feltro e feltro ci sia feltro e monte feltro quindi due località geografiche che rientrano nei possedimenti di Can Grande della Scala però come vedete anche se tanti elementi portano a Can Grande della Scala una diciamo sicura attribuzione dell'identità del veltro come Can Grande della Scala è praticamente impossibile per quello che diciamo poco fa cioè nel senso che dovremmo poi capire quali vantaggi davvero salvifichi avrebbe portato Can Grande all'Italia e quindi lasciamo la profizia per quella che è cioè con il suo linguaggio oscuro e andiamo invece a interpretare le ultime due terzine di quella umile Italia fia salute quindi sarà la salvezza appunto di quella bassa Italia bassa appunto perché dovrebbe avere una prima accezione sicuramente geografica quindi priva di montagne particolarmente elevate dobbiamo ipotizzare che che Virgilio avessi di fronte Enea che appunto definisce proprio l'Italia umile avesse di fronte il sud Italia piuttosto che il nord Italia e quindi Virgilio di conseguenza parlasse l'Italia in questo senso si potrebbe anche indicare una valenza morale a questo aggettivo che è quella appunto di misera infelice per cui appunto morirono gli eroi cantati da Virgilio cioè Camilla Eurio Loturno di Niso conferite questi il veltro caccerà la lupa per ogni città in ogni posto finché non avrà risospinta nell'inferno da dove era partita per la prima volta a causa dell'invidia quindi di fatto insomma si concluderà così questa azione salvifica del veltro L'unica via di salvezza il viaggio nell'oltretomba Virgilio spiega a Dante come unica via di salvezza sia il viaggio attraverso l'inferno e il purgatorio e si offre di guidarlo se poi vorrà salire al regno dei beati egli lo lascerà ad un'anima più degna perché Dio non ne concede a lui pagano appentrata Dante accetta la proposta dichiarandosi pronto a seguirlo per i regni dell'oltretomba dopodiché i due poeti si incamminano un Dio se tu vorrai se tu vorrai salire anima fia a ciò più di me degna con lei ti lascerò nel mio partire che quello imperador che lassù regna per chi fu il ribellante alla sua legge non vuol che in sua città per me si vegna in tutte le parti impera e qui regge qui e la sua città e l'alto seggio o felice colui cui ivi elegge io a lui poeta io ti richeggio per quello Dio che tu non conoscesti a ciò che io fugga questo male e peggio che tu mi meni la dovor dicesti si ch'io veggia la porta di San Pietro e color cui tu fai cotanto mesti allora si mosse e io li tengo dietro per cui per il tuo bene per il tuo meglio dice Virgilio penso e sono convinto e ritengo opportuno che tu mi possa mi debba seguire io sarò la tua guida quindi Virgilio si pone come guida e ti porterò da qui ti condurrò in un luogo eterno quindi l'inferno che sarà eterno come il paradiso ove udirai le disperate strida ove ascolterai le urla di dolore e vedrai gli antichi spiriti dolenti e vedrai gli spiriti provare dolore antichi in che senso secondo secondo alcuni di molti anni prima molti secoli prima secondo altri invece antichi sta per anticus e cioè famosi in effetti le due interpretazioni hanno anche dei punti deboli prima di tutto perché ci sono Dante incontra dei personaggi che lui stesso non sapeva fossero morti quindi di fatto insomma lui contemporane e per altri aspetti insomma non tutti i personaggi che incontra sono famosi anche come dico in cui si trattiene a parlare per esempio Ciacco non è sicuramente si può dire che sia un personaggio importante cioè anticus nel senso di eminente che alla seconda morte ciascun grida è un verso molto difficile di interpretazione la seconda morte deve essere la morte dell'anima cioè il desiderio di tutte le persone che soffrono l'inferno di poter diciamo di desiderare la seconda la seconda morte ma è una scelta impossibile perché le anime infernali quando sarà finito il mondo lei e Joseph riprenderanno il loro corpo e questa volta patiranno le pene non soltanto in anima ma anche in corpo quindi per loro si tratterà di una doppia di una doppia pena probabilmente qui se lasciamo il significato vero e proprio di grida che è appunto quello di invocare dobbiamo ipotizzare che la seconda morte sia appunto l'ultima dannazione cioè che ciascuno desidera invoca l'ultima dannazione e questo verso potrebbe essere questa interpretazione potrebbe essere quella diciamo più consona per il clima perché vedremo che le anime dopo aver ricevuto il giudizio di minosse le anime d'inferno vanno di corsa verso il luogo della propria pena contrariamente a quello che potrebbe sembrare agli uomini insomma che vanno molto lentamente verso il proprio castigo ma le anime sono spinte dalla giustizia divina quindi la pena non è una vendetta ma è una giustizia quindi diciamo il suo desiderio di correre verso la propria pena è una caratteristica delle anime dell'inferno e potrebbe darci la possibilità di spiegare questo verso così complicato cioè vedrai gli spiriti antichi che provano dolore e che invocano l'ultima dannazione quindi l'ultimo aumento il completamento del loro processo di dannazione e vedrai coloro che sono contenti nel fuoco perché spera di venire quando che sia le beate genti poi ti condurrò nel purgatorio quindi coloro i quali si trovano nel fuoco ma nel senso della purificazione ormai sono anime già salvate da Dio e devono soltanto espiare cancellare l'ultima tentazione al peccato e quindi sperano quando che sia quando sarà il tempo opportuno quando avranno finito il processo di purificazione di andare presso le beate genti nel paradiso alequai poi se tu vorrai salire anima fia ciò più di me degna più di me degna con lei ti lascerò nel mio partire quindi se poi vorrai andare anche qui cioè nel paradiso e beh a questo punto non ti potrò accompagnare io ma ti lascerò un'anima più degna di me prima Beatrice poi altre anime e con lei ti lascerò appunto e io partirò cioè me ne tornerò nel mio posto che appunto è il limbo che perché quello imperador che la su regna Dio appunto che regna nel paradiso dal momento che io fui ribellante alla sua legge perché Virgilio non ha creduto in Cristo Venturo è nato prima della nascita di Cristo non vuol che in sua città per me si regna mi impedisce di andare in tutte le parti impera e qui vi regge quindi anche se il luogo diciamo luogo in cui si trova Dio è il paradiso di fatto insomma il suo potere è ovunque quindi anche nell'inferno qui ve la sua città è l'alto seggio felice appunto colui che ivi che gli elegge alla latina sceglie quindi felice colui che Dio sceglie perché possa stare insieme con Dio con lui è la risposta di Dante al quale si conclude il nostro canto e la nostra lettura io a lui poeta io ti chiedo per quel Dio che tu non hai conosciuto affinché io possa fuggire questo male o se c'è un male peggiore che tu mi conduca laddove ora mi hai detto cioè per questo viaggio ultraterreno in maniera tale che io posso vedere la porta di San Pietro l'ultimo piccolo problemino porta di San Pietro cosa si riferisce al purgatorio una delle porte del purgatorio ha appunto San Pietro come guardiano oppure il paradiso come luogo appunto di tutti i beati quindi anche di San Pietro lasciamo naturalmente la tua interpretazione e coloro che tu fai cotanut mesti e appunto coloro i quali tu fai così così tristi allora si mosse quindi Virgilio che conosce la strada si muove per primo e Dio e Dante lo seguono grazie a tutti